Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, l'amministratore del canale Commedia Aritaliana. Ieri sera, ieri pomeriggio, per caso, a noi fan, a noi amanti della coppia comica formata da Massimo Boldi e Christian De Sica, è arrivata una notizia molto molto importante. Christian De Sica ha ripostato, non so se per sbaglio o perché il loro intento fosse quello proprio di far parlare, può essere, sarebbe una cosa molto molto intelligente e astuta, una storia in cui, insomma, si travedevano dei preparativi proprio alle riprese del nuovo film con Boldi e De Sica, le cui riprese, come Massimo Boldi ha annunciato proprio oggi, ad Ischia, in un festival del cinema, mi sembra, ad Ischia, inizieranno alla fine di questo mese, quindi a fine luglio, credo quindi che tra una settimana più o meno, insomma, inizieranno finalmente le riprese di questo attesissimo film. E tra questi preparativi c'era anche un foglio con su scritto il titolo di questo film, o quanto meno il titolo provvisorio, poi staremo a vedere. E il titolo provvisorio, comunque, anche se dovesse poi cambiare, ci fa capire come sarà questo film, come vi avevo già in qualche modo accennato nel video caricato una settimana fa, e adesso posso confermarvelo. Vacanze di Natale su Marte. Quindi sicuramente il film avrà questa ambientazione, potremmo dire, spaziale, potremmo dire fantascientifica, potremmo dire un po' particolare, molto particolare, soprattutto innovativa, rivoluzionaria, per il cinema di Massimo e di Christian, e poi vedremo però se il titolo effettivamente rimarrà questo o cambierà. A proposito di questo, ragazzi, credo che nel prossimo weekend farò una nuova live, sempre, magari, su questo argomento, partendo da questo argomento, per poi spaziare su tutto quello che volete. Si parla di cinema, si parla di film in uscita, di situazioni varie, tutto quello che volete, partendo da questo punto, che è il punto, diciamo, che forse ci riunisce di più. Io, ragazzi, potrei fare... probabilmente farò anche 300 video fino a dicembre, parlandovi di Massimo e Christian, perché so che voi li apprezzate, mi piace molto parlarne, considero il mio canale un... in qualche modo anche un mezzo per parlare con degli amici, come se stessimo qui a chiacchierare, seduti al bar, per, in qualche modo, darvi, non dico ogni singola notizia in un video apposito, però, appena ci sono notizie importanti come questa, io ne parlo. Quindi, probabilmente, partendo da quello, poi si parla di quello che vogliamo, come abbiamo fatto una live bellissima fatta un mesetto fa, farò una live prossimo weekend. Volevo farla anche oggi, però, ho detto, ma li avviso stamattina, è un po' troppo tardi, quindi, prossimo weekend, poi metterò anche un sondaggio, venerdì, sabato, domenica, vediamo, e, ragazzi, vi rinnovo l'invito a seguirmi sulla pagina Instagram Commedia Italiana, il logo è lo stesso del canale, perché metterò anche un sondaggio lì, per quanto riguarda questa live, e poi lì ogni giorno parlo di cinema, di commedia, quindi, sicuramente potrà interessarvi, se come me, amate la commedia italiana. Dunque, Vacanze Natale su Marte, un film che dovrebbe uscire, se tutto andrà bene, nelle sale italiane, al cinema, ragazzi, mi raccomando, nel Natale del 2020, poi questo vedremo, insomma, più avanti come andranno le cose, vedremo se effettivamente sarà così, me lo auguro con tutto il cuore, ma mi auguro soprattutto che la situazione sarà risolta, o quasi, perché non voglio che poi esca nelle sale per andare male, cioè, se questo e tantissimi altri film viene in mente subito Dieci giorni con Babbo Natale, con De Luigi Abbandantono, Valentino Lodovini, cioè, se devono uscire questi film, è bene che escano in una situazione rosea, film che avrebbero incassato tanto in una situazione normale, eh, non sarebbe il caso di andassero male a causa di questo maledetto virus, per cui, questo poi lo vedremo, dovrebbe uscire nelle sale Natale 2020, diretto da neri parenti, il ritorno di Boldi e De Sica insieme, due anni dopo questo amabile film, amici, come prima, di Christian De Sica, che incassò quasi 8 milioni e mezzo nel Natale del 2018, trovate, se volete, la mia recensione, tutto l'ambaradano che ho pubblicato sul canale due anni fa, che emozione, ragazzi. Nello scorso video vi avevo annunciato un altro piccolo dettaglio per contribuire del cast, ovvero la presenza di una bravissima comica italiana che è Paola Minaccioni, pare sia confermata, insieme a lei altri due nomi femminili, quello di Serena Utieri, sono molto contento, e quello di Milena Vukotic, che aveva già lavorato con Boldi in un film, in una sorta di cine parentone, Natale da Chef, dello stesso Parenti, con il quale, ovviamente, ha lavorato in tantissimi importantissimi fantozzi, a partire da Fantozzi contro tutti, fino a Fantozzi in ritorno, tutti tranne Super Fantozzi, questi film compresi, in cui tornava Liubosisio, ve la ricorderete, sicuramente, grandissima Pina Fantozzi, quindi Milena Serena e Paola, e a questo punto aspettiamo di sapere anche nuovi nomi maschili, non credo proprio che ci saranno quei nomi che tanto speravamo ci fossero, non so, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Max dei Fichi d'India, salutiamo Bruno, ovviamente, o Paolo Conticini, e ragazzi, sarebbe stato bello, ma se non ancora l'hanno detto, vuol dire che probabilmente questi nomi sono da escludere, e questo è veramente un peccato. In ogni caso, titolo svelato, che sia per caso, che sia per un piano astuto, il titolo c'è, magari cambierà, però ci fa capire tanto, quindi non è più la battuta dei Gigi Proietti, fatta a De Sica anni fa, modo per l'andata fa, fatelo su Marte, no, è una cosa autentica, Vacanze di Natale su Marte, film fantascientifico, film spaziale, Natale 2020 nelle sale, probabilmente, regia di Neri Parenti, prodotto dall'Indiana Production con la Medusa Film, se non sbaglio, interpretato ovviamente da Massimo Boldi e Christian Di Sica, con Paola Minaccioni, Serena Notieri e Milena Pogodic. In attesa di nuove notizie, nuovi dettagli, nuove chicche, probabilmente live sul canale prossimo weekend, farò un sondaggio, ne parleremo, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di tutto questo, e come vi ho detto, siamo amici, parliamo di cinema come se stessimo al bar, quindi ogni volta che arriva un dettaglio, ogni volta che arriva una notizia importante, non ogni briciola, video sul canale, live sul canale per parlarne, e speriamo, ragazzi, che questo progetto possa andare veramente in porto. Massimo oggi si trovava, se non sbaglio, in un festival del cinema ad Ischia e ha condiviso un premio vinto, se non sbaglio, con Christian, salutandolo, diciamo, omaggiandolo, e ha parlato proprio di questo film, le cui riprese inizieranno alla fine del mese, a testuali parole, sì, si era detto agosto, quindi siamo lì più o meno, quindi speriamo tra una settimana, e speriamo di poterne sapere di più quanto prima. Ciao a tutti, e sempre viva il cinema italiano!